E' custodita a potenza la sacra reliquia del sangue di Gesù. Nel capoluogo in occasione dell'anno santo della misericordia si celebra il 460esimo anniversario, da quando nella chiesa parrocchiale di Santa Maria del Sepolcro si conserva con grande devozione la sacra reliquia. Sabato scorso c'è stato un momento di preghiera comune di alcune parrocchie del capoluogo per la festa delle stimate, dove in occasione dell'anniversario corrente è stato possibile lucrare l'indulgenza plenaria. La reliquia potrà essere venerata fino al 25 settembre prossimo. Per l'occasione sarà concessa la remissione di tutti i peccati se, in spirito di penitenza e sospinti della carità, i pellegrini visiteranno il tempio parrocchiale e parteciperanno alle sacre funzioni o eriti che si celebrano dinanzi alla reliquia del preziosissimo sangue.